Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IGVOLT è il sito che va per voi e con il codice FUTITALIACHANNEL avrete anche un 6% di sconto link in descrizione Bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video qui è sempre Livano di FUTITALIACHANNEL e siamo sempre qui con la top 5 goals della settimana partiamo subito al quinto posto troviamo Leo al quarto posto il primo gol di DRED al terzo posto JOKER secondo gradino del podio per Leo il vincitore di questo episodio è ancora lui DRED ed anche per questa settimana ragazzi la top 5 goals finisce qui mi raccomando continuate a mandarci i vostri video all'indirizzo mail che trovate qui sotto in descrizione lasciate un like se il video vi è piaciuto ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ci vediamo la prossima settimana da Libano e dallo staff di FUTITALIACHANNEL è tutto, buona domenica